Avvocato Portolotti, un tema che interessa molto in materia condominiale in questo momento è quello delle assemblee di condominio. Come vengono svolte in questa situazione di emergenza? È sicuramente una situazione che ha comportato la necessità di interventi specifici perché è evidente che l'impossibilità di uscire, di riunirsi, ha comportato la necessità di trovare delle soluzioni adeguate per questa problematica. All'inizio c'è stato un po' di incertezza nei primi mesi di chiusura, di emergenza, poi con l'inevitabile rinvio dell'attività assembleare per i condomini, poi si è pensato di intervenire in modo più puntuale, dando la possibilità ai condomini di riunirsi e di effettuare l'attività ordinaria e straordinaria di assembleare con modalità cosiddette da remoto. C'è stato un percorso abbastanza travagliato, soprattutto dal punto di vista interpretativo per questa nuova modalità, volendo essere molto concreti, all'inizio e fino al mese di novembre una modifica alle disposizioni di attuazione del codice civile dava la possibilità di svolgere le assemblee con modalità da remoto, quindi con funzioni tipo Skype, altre piattaforme, però con l'assenso della totalità dei condomini, previamente avvisati ovviamente dall'amministratore. È evidente che questa condizione rendeva ancora più difficoltoso lo svolgimento di un'assemblea con una modalità che è già di per sé più complicata rispetto al normale. Nel corso del mese di novembre, con l'approvazione definitiva del cosiddetto decreto Covid, si è apportata una modifica, sempre all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, che prevede che sia necessaria soltanto la maggioranza dei condomini, l'assenso della maggioranza dei condomini per poter svolgere l'assemblea con modalità da remoto. Quindi la risposta in via pratica alla domanda è questa, cioè che si è pensato di intervenire per limitare l'emergenza nella quale si trovano anche gli amministratori di condominio nell'impossibilità di provvedere anche alle decisioni, ad eseguire quelle che sono le delibere, le necessità dei condomini con questa modalità, che però presenta a mio avviso anche alcune criticità importanti. Al di là della singolarità di questa modalità di riunione, essendo un modo, un iter totalmente nuovo, anche il giurista, anche gli addetti ai lavori si trovano nell'impossibilità di prevedere quelli che possano essere le problematiche che portano anche a delle pronunce così specifiche come la nullità o l'annullabilità di un verbale. Manca la giurisprudenza ancora, però sicuramente a mio avviso delle questioni che vanno attenzionate esistono, in particolare mi viene in mente abbastanza banalmente la prevedibile impossibilità di qualcuno dei condomini di collegarsi, quindi perché non ha gli strumenti idonei o perché magari anziano ha qualche difficoltà a attuarli in maniera corretta, quindi in definitiva nonostante il condomino sia stato avvisato si potrebbe ravvisare l'impossibilità di partecipare alla riunione indetta con modalità da remoto e una lesione del suo diritto riconosciuto naturalmente dalla legge di partecipare all'assemblea, di esprimere il proprio parere, la propria votazione. Un'altra problematica che mi viene in mente potrebbe essere quella di portare in assemblea e mostrare della documentazione, dei preventivi, delle perizie, attività che in genere possono accadere, che sono normali nell'ambito di un'assemblea, con una modalità simile, appunto da remoto, diventano più complicate, molto più complicate e soprattutto si pensi a condomini dove i proprietari sono molti. Infatti questa è, a mio avviso, una modalità di svolgimento dell'assemblea che può essere consigliata qualora sia assolutamente necessario e urgente per condomini composti da pochi proprietari, perché si pensi a cosa possa voler dire svolgere un'assemblea da remoto con decine e decine di persone. Non credo che si possa ipotizzare una discussione e un'assunzione di decisioni che abbia i canoni della serietà in questo modo. Quindi ci sono diverse problematiche, tanto è vero che le cosiddette FAC del Consiglio dei Ministri, del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupavano anche di questo aspetto e nonostante l'emergenza le assemblee di condominio erano in presenza, erano fortemente sconsigliate ma non del tutto vietate, anche in zona rossa, purché si adoperassero ovviamente tutti gli accorgimenti indispensabili, ossia le mascherine indossate naturalmente e fosse possibile il giusto distanziamento. Naturalmente vengono alla mente i tanti locali condominiali piccolini o agli studi dell'amministratore dove si svolgono le assemblee che magari durano ore e ore e le condizioni non sono ottimali. Credo che in conclusione, laddove non ci siano emergenze, situazioni di urgenza veramente importanti, è opportuno cercare di rinviare quanto più possibile lo svolgimento dell'assemblea e consentire all'amministratore comunque di continuare nella gestione ordinaria.